Allora, attenzione prego, per il singolo femminile open classe B1, queste tre atleti, 104, 138, 161, si devono accomodare dietro il backstage per la vostra entrappa. E sarà così per tutti gli atleti di classe B1. Ragazzi ci siamo? 3, 2, 1, pericore di acqua. 132 132 132 132 132 133 143 153 153 153 153 153 163 163 163 163 174 163 170 numero 5 Cinco, un campo avviato. Cinco, un campo avviato. Cinco, un campo avviato. Un campo avviato. Cinco, 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 un campo avviato.